E io ne parlerei sempre della bonifica, sempre, anche con i miei amici, sempre. I dugaroli, il personale di montagna, i tecnici, tutti quanti lavorano in consorzio per passione. L'uomo della bonifica calpesta il territorio, lo conosce, ci va sopra a piedi. L'uomo della bonifica calpesta il territorio, lo conosce.